Caro Alex, mamma e io andiamo a fare colazione dai Russells. Il fusibile nel garage è rotto, quindi il sensore di movimento della porta è sminchiato. Devi essere sicuro che sia chiuso prima che tu vada dentro. Cioè che sia chiuso il garage prima che tu vada. Vabbè. Abbiamo lasciato alcuni money per la pizza. Ci vediamo dopo e sta un po' safe. Va bene. Firmata Papi. Vediamo di che cosa si tratta. Di cosa si tratta. Hanno lasciato il bambino da solo. Qui c'è il garage. Chiudiamolo. Oh, si chiude. Non si è chiuso. Chiuditi. Non è rotto il fusibile. Là si è vista una manina. Un qualcosa. Lì. Ho visto. No, forse ho visto. Sto male. Non va più. Cioè, immaginatevi un bambino in questa situazione. Gli è prima sembrato di vede... Oh, cazzo. Chiuditi. Chiuditi, garage di merda. Vai che c'è corrente. Chiuditi. Se n'è andato. Cazzo. Cazzo. Eh beh. Eh beh. Scommetto che non... Non avete più voglia di andare a chiudere il garage. Scommetto che non ti.